Radio Più presenta Le parole della misericordia, un momento di meditazione in occasione dell'anno santo, a cura di Marco Frisina. Verità. Il Salmo 85 ci ricorda che nel momento del compimento della salvezza, amore, misericordia e verità si incontreranno. Giustizia e pace si baceranno. Bellissimo. Nel Salmo questo è il momento in cui si compie il regno di Dio. Ma che cos'è questo regno di Dio sulla terra se non il regno in cui la verità si rivela? Che cosa significa verità? In greco la parola aleteia significa togliere dal nascondimento, svelare, significa togliere un velo e quindi significa rivelazione. Gesù viene a rivelare agli uomini la verità di Dio e questa verità di Dio, che è amore e misericordia, è finalmente donata in Cristo. Gli uomini rimangono stupiti quando si parla del Vangelo, anche gli uomini di oggi. È bellissimo quando si spiega il Vangelo così com'è, che gli uomini rispondono immediatamente. Gli occhi degli uomini si illuminano e ciò che cercano, la verità, e cercano quella libertà che deriva dalla verità. Gesù ce lo dice, la verità vi farà liberi, perché la vera libertà non è fare ciò che ci piace, la vera libertà è scoprire che la nostra vita non ha prigionie, non ha legami, non ha dei padroni. E solo la verità ci fa questo, perché svela ciò che noi siamo, svela chi è Dio, svela che cos'è la verità del mondo, che cos'è il mondo. La verità non è un fatto mentale, è un fatto di tutta la nostra vita. Vivere nella verità, vivere con una vita limpida, con una vita fatta di luce, di gioia, fatta di quell'amore che ci rende liberi. Ecco la verità. È strano, perché noi pensiamo sempre alla verità come qualcosa che si cerca con lo studio. Certo, lo studio ci aiuta a trovare le vie della nostra vita per scoprire dove è la verità. Ma Gesù viene incontro a noi prima di tutto lo studio e ci dice, io sono la verità e la vita. E allora il cristiano è privilegiato, perché sa già dove sta la verità. La verità è una persona ed è Cristo e Lui ci svela tutto. Poi il nostro studio, il nostro cammino ci porterà ad approfondire chi è Gesù per me, che cos'è il mondo. Ma la verità è questo bellissimo svelamento d'amore. Quando Pilato con Gesù parla della verità, Pilato non capisce di averla davanti. e domanda a Gesù, ma che cos'è la verità? E Gesù non risponde, ce l'ha davanti, sono io. Pilato non capisce che cos'è la verità perché è come il mondo di oggi, che cerca le sue verità, cerca le sue certezze magari nella scienza o nella tecnologia o nella politica, ma non capisce che la verità è un dono di Dio e sta nel cuore della creazione, sta nel cuore dell'uomo. E Gesù ce l'ha svelati questi misteri che invece sono luce straordinaria. La verità non schiaccia, ma libera sempre. Diventiamo veramente discepoli della verità. Portiamo questa verità che è Cristo al mondo e liberiamo il mondo dalle sue schiavitù. Saremo tutti felici di sentire che misericordia e verità si incontrano, che amore, giustizia e pace si baciano.